Dal 26 al 28 marzo 2020 la città di Assisi ospiterà The Economy of Francesco, un evento internazionale rivolto a giovani impegnati nel pensare e praticare un'economia diversa. L'invito a partecipare arriva direttamente da Papa Francesco, che convoca nella città di San Francesco i giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo, senza distinzioni di credo o di nazionalità, per avviare con loro un processo di cambiamento globale affinché l'economia di oggi e di domani sia più giusta, inclusiva e sostenibile, senza lasciare nessuno indietro. L'evento è organizzato da un comitato composto dalla diocesi di Assisi, dal comune di Assisi, dall'istituto serafico di Assisi e da Economia di Comunione, per indicare il profilo della nuova economia di sistema. Questa economia è possibile, ma viviamo in un mondo invece dai contrasti esasperati tra i pochi che possiedono troppo e i molti che tante volte mancano anche del necessario. Il Papa vuole allora incontrare, per fare un patto, per aiutare tutti a riflettere e tutti a impegnarsi per questo. Qui a Assisi era naturale, perché, l'ho detto già quando è venuto nel 2013 e poi altre volte, qui Francesco si è spogliato di tutto e ha messo così il germe di una economia alternativa.